E' entrato in vigore in forma provvisoria l'accordo sulla Brexit dopo la ratifica da parte del Parlamento britannico in attesa della ratifica del Parlamento europeo. Molti hanno tirato un sospiro di sollievo ma in realtà il processo della Brexit è tutt'altro che finito. L'accordo non si occupa di tutti gli aspetti dei rapporti tra Regno Unito e Unione Europea perché molti sono rimasti ancora in sospeso, a partire dai rapporti commerciali relativamente ai servizi e in particolare ai servizi finanziari che sono la maggiore esportazione britannica verso l'Unione Europea ma anche tutto il tema della cooperazione in materia di sicurezza, di difesa e così via. Quindi in sostanza i negoziati non sono affatto finiti e continueranno ancora molto a lungo tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Questo accordo è la fine dell'inizio come ha detto qualcuno e non la fine di tutto il processo. Questo ci fa capire quanto siamo interdipendenti, quanto sia forte il legame che unisce i cittadini e gli stati membri dell'Unione Europea, tanto che uscirne diventa estremamente complicato e costoso. Secondo il governo britannico la Brexit costerà circa il 4% del PIL al Regno Unito all'inizio ed è alquanto dubbio che poi questo costo possa diminuire in maniera significativa. Ecco quindi che da tutto questo nasce una riflessione su quanto sia forte e importante la rilevanza dell'Unione Europea per la vita dei suoi cittadini ed è per questo che Euroactive cerca di portare un'informazione quotidiana per aiutare a comprendere la rilevanza delle decisioni e delle scelte che ormai compiamo quotidianamente a livello europeo.